La furia del vento che si è scatenata l'altra sera su Legnano e su tutto il territorio è testimoniata da questo albero completamente frantumato qui al Parco Falcone e Borsellino, dove oggi sono in corso lavori per mettere in sicurezza lo stesso albero e l'intera zona. Un albero spezzato in più parti di proporzioni anche abbastanza notevoli, spezzato dalla furia del vento l'altra sera qui a Legnano.